Sassari, nella tarda mattinata del 24 gennaio gli agenti della squadra volante della Questura erano intervenuti nei pressi di un istituto scolastico professionale perché era stata segnalata una rissa tra ragazzi culminata con il ferimento di una delle ragazze coinvolte. A seguito dell'attività di indagine della squadra mobile della Questura di Sassari è emerso che nella rissa sarebbero state coinvolte quattro ragazze di cui due minorenni, le quali avrebbero utilizzato un manganello metallico, una pietra, un martello ed un tirapugni. Le quattro ragazze sono state denunciate per rissa, le due minorenni sono state inoltre denunciate per porto abusivo d'armi. Ad esito dell'attività di indagine, inoltre, su disposizione del GIP del Tribunale per i minorenni di Sassari, la squadra mobile ha eseguito la misura cautelare del collocamento in comunità nei confronti delle due minorenni coinvolte.